Il virus respiratorio sinciziale è causa di malattie respiratorie acute che in alcuni casi possono portare a forme gravi con quadri clinici severi. Ma perché è così difficile arrivare alla diagnosi di questa infezione? Chi sono le persone maggiormente colpite e quale ruolo può avere il medico di medicina generale per la prevenzione di questa infezione? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Tecla Mastronuzzi che abbiamo incontrato a Roma alla presentazione della campagna informativa non è come sembra che tratta proprio di questi temi. Perché l'infezione da virus respiratorio sinciziale è così insidiosa e difficile da diagnosticare? L'infezione da RSV è veramente insidiosa ed è veramente difficile da diagnosticare perché si confonde con qualsiasi infezione delle prime vie aeree. Può manifestarsi come un banale raffreddore, può manifestarsi anche col coinvolgimento di altre parti dell'apparato respiratorio, ma i sintomi sono molto simili a quelli delle altre infezioni. Chi sono i pazienti più colpiti? Notoriamente sappiamo che i pazienti più colpiti sono i bambini, i neonati, i bambini piccoli, ma il problema non riguarda solo l'infanzia. Abbiamo tantissima circolazione del virus respiratorio sinciziale tra gli adulti, tra gli anziani, tra i pazienti immunocompromessi e sono proprio queste ultime categorie quelle che possono pagare il prezzo più caro. Che cosa può fare il medico di famiglia? Il medico di famiglia può crescere la propria consapevolezza, può creare buone pratiche, può insegnare ai pazienti che questo virus esiste, coinvolge tutti e non dobbiamo sottovalutarlo. Può insegnare a proteggere i pazienti più fragili, può seminare quella conoscenza che è la base fondamentale per una scelta consapevole di aderire alla vaccinazione. Abbiamo a disposizione dei vaccini fantastici per il virus respiratorio sinciziale. Si tratta di vaccini sicuri e che uno dei due ha anche un compito fondamentale perché è utilizzabile nelle donne in gravidanza. E qui facciamo una cosa meravigliosa che con la stessa cifra proteggiamo due persone, proteggiamo la mamma e proteggiamo il bimbo che nascerà già con quegli anticorpi che saranno sufficienti per fargli affrontare i primi mesi di vita. E quando proteggiamo una mamma facciamo un'azione straordinaria sul futuro ed è quello che dobbiamo fare.